Come noto l'articolo 17,1 e 2 del DPR 435 del 2001, a seguito di quelle che sono le modifiche introdotte dall'articolo 7,4 del DL 193 del 2016, stabilisce che il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte di persone fisiche e società o associazioni, deve essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della stessa dichiarazione. I versamenti di Q1 possono essere effettuati, precisa ancora la norma, entro il trentesimo giorno successivo ai termini IVI previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. In applicazione quindi di quello che è il citato articolo 17, è considerato che i versamenti e gli adempimenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, ancorché effettuati con modalità telematica. Inoltre tutto ciò che scade dal periodo 1 agosto a 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il 20 dello stesso mese e senza alcuna maggiorazione. I termini di versamento delle imposte risultanti dal modello redditi IRAP 2018 possono essere quindi così individuati. Entro il 2 luglio, in quanto il 30 giugno cade di sabato, ovvero 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40 in quanto il trentesimo giorno successivo al 2 luglio corrisponde al primo di agosto che ricade nella cosiddetta citata proroga di ferragosto. Ma vediamo ancora alcuni aspetti particolari che riguardano tutti i contribuenti. Così vediamo cosa accade per quanto riguarda i contribuenti minimi e forfettari. I soggetti minimi e forfettari fino al 2016 che nel 2017 hanno applicato il regime ordinario, hanno versato l'acconto 2017 dell'imposta sostitutiva, evidenziano quanto versato a titolo di acconto 2017 nel modello redditi 2018 persone fisiche al rigo RN38 campo 4, facendo così confluire detto importo nell'ambito dell'IRPF. I contribuenti che fino al 2016 sono stati minimi e del 2017 sono diventati forfettari, indicano quanto versato a titolo di acconto 2017 con i codici tributo 1793-1794 al rigo LM45 campo 2, facendo così confluire tal importo nell'ambito dell'imposta sostitutiva dei forfettari. Ma vediamo invece cos'è che accade nel caso della cedolare secca 2017. Per i redditi da locazione di immobile uso abitativo, ovvero i redditi diversi derivanti da locazioni brevi assoggettate a cedolare secca, è necessario dichiarare i redditi soggetti a cedolare secca nel quadro RB, ovvero nel quadro RL, versare il saldo dovuto tenendo presente quanto già versato a titolo di acconto, nonché in caso di locazioni brevi con intervento di un intermediario, della ritenuta operata dallo stesso. A tal proposito si ricorda che l'aliquota ordinaria è fissata al 21%, mentre l'aliquota agevolata pari al 10%, è applicabile ai contratti di locazione a canone concordato, relative ad abitazioni ubicate oltre che nei comuni con carenza di disponibilità abitativa, ad alta tensione abitativa anche nei comuni per il quale è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti, il 28 maggio 2014. Nel modello redditi 2018 persone fisiche è presente il nuovo quadro Lc riservato alla determinazione della cedolare secca. Ma vediamo anche cos'è che accade per quanto riguarda l'IVIE e l'IVAF 2017. Entri il termine infatti previsto per il saldo IRPEF 2017, ossia entro il 2 luglio 20 agosto 2018, con la maggiorazione dello 0,40%, le persone fisiche sono tenute al versamento del saldo 2017 dell'imposta dovuta sugli immobili situati all'estero, l'IVIE, nonché sulle attività finanziarie detenute all'estero, determinata nel quadro RW del modello redditi 2018 persone fisiche. In merito si ricorda che sono esenti IVIE e gli immobili esteri che costituiscono abitazione principale, ovvero la casa coniugale assegnata all'ex coniugia a seguito di un provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento, cessazione del matrimonio, se l'immobile in Italia risulterebbe non di lusso. Per detti immobili ha applicato l'effetto sostitutivo IVIE e IRPEF. Società di comodo e le società di capitali considerate di comodo e quindi tenute all'applicazione della maggiorazione del 10,50% della liquidaire, devono versare il saldo 2017 entro gli stessi termini previsti per l'IRES utilizzando lo specifico codice tributo. Inoltre per quanto riguarda gli acconti ricordiamo che i contribuenti sono attesi tenuti al versamento dell'acconto delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2018 da dichiarare il modello redditi IRAP 2019 entro i medesimi termini previsti per il saldo 2017, ossia entro il 2 luglio o 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Come di consueto l'acconto può essere determinato con il metodo storico oppure con il metodo previsionale tenendo presente quanto previsto dal DL63 del 2002. Ricordiamo che anche per quanto riguarda quindi l'IRPEF utilizzando il metodo storico l'acconto IRPEF 2018 va calcolato applicando il 100% all'importo esposto al rigo RN34. Ed infine poi ricordiamo quindi quanto accade per quanto riguarda la cedolare secca. Le persone fisiche nel 2018 hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili abitativi locati non sono tenute al versamento dell'acconto 2018 per la cedolare secca. Possono determinare l'acconto IRPEF 2018 con il metodo previsionale considerando che il reddito fondiario, rendito diverso derivante dall'allocazione breve dei detti immobili non sarà soggettata di IRPEF. Nel caso di fuoriuscita ricordiamo che le persone fisiche che nel 2018 sono fuoriuscite dal regime della cedolare secca e devono assoggettare la tassazione ordinaria il reddito degli immobili abitativi locati a decorre dall'uscita non sono tenute a versare l'acconto IRPEF 2018 per il reddito dell'immobile che nel 2018 sarà assoggettata di IRPEF. Possono utilizzando il metodo previsionale versare un acconto inferiore ovvero non versare l'acconto per la cedolare secca. Grazie per la visione!